È stato un anno intenso, 150 eventi, 600.000 visitatori, l'isola di Arturo lascia la corona di capitale della cultura italiana e passa il testimone a Bergamo e Brescia. Oggi, al Teatro della Corte di Palazzo Reale, la cerimonia della staffetta con i primi cittadini di Procida e delle due città lombarde, insieme al Ministro della Cultura, San Giuliano. Quando fu scelta Procida io ho condivisi molto questa decisione perché conoscevo il valore di quest'isola e credo che l'essere stato a capitale della cultura ne abbia migliorata l'immagine globale. E quindi credo che sia stato un fatto molto positivo. Ho letto di 600.000 visitatori, che è un dato positivo, ma secondo me ci sarà un lascito molto importante. Il lascito dell'immagine, il lascito della cultura. E poi credo che ci sarà anche un lascito imprenditoriale perché sono migliorate le strutture turistiche, la recettività e quindi tutto questo aiuta. Il passaggio del titolo da Procida a Bergamo e Brescia è anche un sintomo di unità nazionale, ha sottolineato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Abbiamo registrato quest'anno un boom di turismo, di presenze. C'è stato sicuramente un trend nazionale, ma abbiamo avuto da noi davvero una realtà straordinaria di economia turistica rilanciata. Dunque, abbiamo creato il presupposto. Oggi passiamo il testimone a due grandi, belle realtà d'Italia. Ed è importante che anche in questo modo si riconfermi che l'Italia è l'Italia, se è un'Italia unita, nord e sud.